Noi viviamo in un mondo dove la nuova tecnologia non è non solo più così nuova, ma non è neanche così più elitaristica. La tecnologia è il cuore della nostra giornata. Noi passiamo un sacco di tempo davanti al telefono, davanti alla televisione, davanti a un computer, ma anche le persone che non fanno un lavoro tecnologico ormai, accedono al telefono anche fino a 80 volte al giorno e questo è un dato importante. È un veicolo che noi non possiamo trascurare, è un veicolo che noi rendiamo centrale in quella che è la nostra giornata e questo ci permette anche lì di convogliare di nuovo le passioni e la lingua in questo caso, come il friulano, come centrali rispetto a quello che comunichiamo ogni giorno. Io trovo che sia, come dire, spontanea questa risposta, anche perché comunque su internet i numeri sono importanti in un certo mercato, in un certo mondo, in un altro campo invece non sono così rilevanti. Il fatto di avere una grossa comunità alle spalle sicuramente porta sia degli investimenti importanti da parte di grandi aziende che rendano compatibile ad esempio l'interfaccia dei telefonini o di qualunque altro strumento a quelle che sono l'uso comune. Vero è anche che comunque internet è il posto delle sottoculture e delle nicchie, quindi per noi non è necessario per forza farci trasportare da questa corrente, ma a volte sono i giganti stessi che di fronte alla ricchezza di questa diversità si trovano a loro agio nell'incentivare la creazione di più lingue, perché è brutto da dire, ma per loro sono anche un mercato, quindi noi usiamo questa cosa per il nostro tornaconto.